Dunque, dunque, seconda puntata della trilogia del filetto e questo ce lo facciamo in reverse searing Allora, brevi cenni sul reverse searing, in sostanza cerco in un paio d'ore di far salire molto lentamente la temperatura al quale della carne la porto a 52 gradi Vedete che il filetto è già qui, l'ho già messo in un giro, anzi in un triplo giro di spago semplicemente perché voglio mantenere la forma, se non proprio rotonda, almeno elissoidale Perché sono in casa? Perché mi serve il forno In questa stagione, essendo molto caldo fuori, non ho possibilità di mantenere il mio barbecue sotto i 100 gradi Metterò il forno a 70 per portare questo al cuore a 52 Potrei utilizzare il mio termometro, ma in realtà il mio forno ha anche lui la sonda Per cui, andiamo a accendere la luce e andiamo a inserirla, questa favolosa sonda Abbiamo messo la sonda, sonda carne inserita Vedete che posso tranquillamente andare a impostare la temperatura interna a 52 gradi Esattamente quello che mi serve Poi che cosa devo fare? Poi vado a togliermi la sonda e vado a puntare alla reazione di Maillard sul barbecue acceso con le griglie molto alte Ovviamente mi richiederà meno tempo perché la temperatura della carne rispetto a quell'ambiente sarà più della metà Cercheremo la rigatura e poi al centro non sarà rosa soltanto Ma dentro la carne sarà completamente rosa, almeno questo nelle speranze Semplicemente perché avremo un rosa uniforme anziché un rosino al centro Quindi diciamo abbrustolito, cotto, rosa, cotto, abbrustolito Ma avremo abbrustolito, rosa, abbrustolito Vediamo se ce la facciamo La cosa importante da fare qui è molto semplice Questo filetto è già stato tirato fuori dal frigorifero da circa un'oretta Per cui è stato portato a temperatura ambiente Io gli ho gelato una prima passata di pannocarta L'importante è che sia privo di condensa e molto molto secco o comunque asciutto Diciamo così Perché? Perché ovviamente devo fare in modo che la mia carne non rimanga umida al contatto con la griglia Vedete che sotto non ho posto alcuna leccarda d'alluminio Ma ho messo una bella teglia forno dove potranno andare a raccogliersi eventuali succhi Noi adesso andiamo a infilarla nel nostro forno Come vedete ho messo la carne in forno E adesso vado ad inserire la mia sonda Centro, sonda Eccola qua, fatto 52 gradi La temperatura non è 170 ma abbiamo detto che la mettiamo intorno ai 70 gradi E facciamo andare Naturalmente Vedete che al cuore Nonostante sia stato fuori per circa un'oretta il mio filetto è a 10-11 gradi Deve arrivare a 52 Se mi dovessi rendere conto che la temperatura sta salendo troppo in fretta Non faccio altro che abbassare la temperatura del forno e da 70 la porto a 60 E se serve ancora meno Lasciamoli tutto il tempo Noi in fretta non ne abbiamo oggi È passata circa un'ora e mezza e siamo quasi al traguardo 43 gradi Deve raggiungere i 52 interni Vi faccio vedere che cosa sta succedendo all'interno del forno Vedete che ho fatto bene Ammesso che è riusciata a vederlo ma credo di sì A mettere questa teglia forno sotto Perché sopra un minimo si sta lasciando andare il mio filetto Non lo sto girando proprio perché è ventilato Ma vedete che sta prendendo il colore che speravo tenesse Noi ci vediamo fra 9 gradi Il piatto è pronto Sono arrivato a 52 gradi al cuore del mio filetto Per cui adesso vado a togliere la sonda Che sposto qui sotto Mi prendo una Corchettina E delicatamente vado a toglierlo E a riporlo Su Questo Su questa setta di legno E vado di corsa a metterlo sulla griglia Giusto una piccola errorata veloce di oli Extravergine d'oliva E siamo carichi Siamo carichissimi Vai Vai Mai ardati Allora ragazzi come vedete la crociatura è perfetta Sto dando semplicemente un ultimo giro per crociarlo così anche dall'altra parte Però devo dire che mi sta intrigando molto questo genere di cottura Trilogia del filetto Vediamo dove arriviamo Sono passati gli ultimi due minuti E' segnato anche di qua Lo posso togliere Guardate che meraviglia Giro di sale Mentre l'ambulanza si allontana Signore è giunto il momento Signore è giunto il momento Probabilmente essere arrivati a 52 gradi Me l'ha fatto cuocere un filo troppo E allora lo porterò circa a 48 la prossima volta Però devo dire che mi intriga Molto Io lo assaggio Ma lo assaggio Non mi frega niente Lo assaggio E' pazzesco perché dentro E' rimasto davvero davvero morbido Io direi che ne assaggio ancora un pezzettino Verrà meglio il ventesimo rispetto a questo primo Sicuramente si Però mi piace moltissimo come è venuto Ed è una cottura completamente diversa Ancuna resa completamente diversa del mio filetto Per cui seconda puntata della trilogia del filetto Nella terza ci faremo un bel roast beef Cioè servito a roast beef freddo Per cui voi Per commenti e insulti scrivete qui sotto Per domande infochiocciolabbcool.it E come sempre Se avete delle foto da mandarmi delle vostre grillate O magari del vostro lever searing Fatelo a ilbordonsvia direct su Instagram Noi ci vediamo alla prossima Ciao belli